Buongiorno a tutti, sono molto lieto di condividere con voi che abbiamo concluso il programma, la prima brozza del programma definitivo del nostro straordinario evento dell'International L'Eurotas Gathering che si trarà in Toscana, a San Vincenzo, presso la fantastica location del Garden Toscani Resort dal 4 all'8 ottobre. Abbiamo raggiunto e superato i 350 partecipanti e siamo in rotta verso i 500 da 40 nazioni. Il programma prevede da le morning prayer del mattino, i cerchi del mattino, ai TED Talks dei vari esperti, e ai standing speaker da tutto il mondo, ai workshop esperienziali durante tutto il pomeriggio, una vastissima scelta di offerte, di proposte, alle cerimonie e alle performance rally, ai film, ai canti, agli eventi. Il focus sarà sul risveglio. Siamo convinti che comprendere la vera natura del risveglio sia una delle sfide principali dell'essere umano nella sua evoluzione, sia una delle differenze che fa la differenza. uscire dalla caverna, delle nostre illusioni, dei nostri sogni, delle nostre abitudini, dei nostri desideri ed accorgerci della nostra vera natura, della vera natura di quello che ci circonda. Esperti da tutto il mondo e soprattutto l'esperienza, la condivisione tra di noi, ci fornirà un'occasione per accorgerci della ricchezza, della complessità, dell'esperienza di risveglio e soprattutto della possibilità. Siamo le soglie di una rivoluzione interiore. Per quanto si possa vedere il mondo esterno perso o nel caos o comunque nelle guerre, nella confusione, nell'incertezza, una solidità, una certezza, una casa interiore, ci accompagna, è sempre stata qui. E ora, grazie, grazie anche e soprattutto all'approccio transpersonale, allo sguardo integrale dell'approccio transpersonale, è possibile pensarci, vederci, lasciare nascere dentro di noi l'immagine di quale è colui che può risvegliarsi, uscire dalla caverna e vivere una vita consapevole e piena. Quindi, vi aspettiamo. Se ancora non l'hai fatto, è il momento di scriversi, di approfittarne anche dello sconto del 15% che ancora ci sarà. Per questo mese. Ci aspettiamo.